Bene, ben ritrovati. Allora, video veloce perché sinceramente volevo dire alcune cose leggendo anche il comunicatore da Roma, ma non voglio entrare nel merito della vicenda che non conosco a fondo, non mi sono informato e non mi voglio nemmeno informare e sinceramente non mi interessa nemmeno niente. Dico solamente un paio di cose e basta. Non mi riconosco in molti tifosi della Roma, non mi riconosco. Non è solamente una questione generazionale, che ne so, io ho 40 anni, loro hanno 20, quindi ci sono 20 anni di differenza e io posso ragionare in un modo, io ho visto una Roma o delle Roma diverse, loro hanno visto una Roma più recente che si è sempre comportata così. Non credo che sia questo il discorso, io lo vedo anche in tifosi della Roma che hanno la mia stessa età, o anche più grandi, che hanno 40 oppure più grandi di me, 45-50 anni, per non parlare dei sessantenni. Vedo proprio questo distacco tra me e loro di cose che in passato non si sarebbero mai accettate, parlo degli anni 90, 80, 90, fine anni 80, quelle che ho vissuto io, inizio anni 90, che non si sarebbero mai accettate e che adesso con questa Roma si accettano e non riesco a capire il reale motivo. Io ho visto delle situazioni di giocatori che hanno cacciato tante volte un allenatore e che poi la curva non è stata in silenzio, la curva come i tifosi non sono state in silenzio, ma hanno controbattuto. io ho la sensazione che ci sia un tacito accordo tra i giocatori, la Roma e parte della tifoseria a non far uscire certe cose e un tacito accordo che poi si estende, se vogliamo, a giornalisti che per il credo vivere e per lavorare devono dire determinate cose, devono scrivere determinate cose altrimenti non lavorano più e quindi tralasciando la parte del tifo e passando alla mia parte cioè quella del giornalista non vedo più quel lavoro giornalistico appunto che ti impone c'è di farti domande di andare a rompere le scatole oppure non per forza andare a rompere le scatole ma di cercare la verità ma di fare un'inchiesta seria corretta fatta per bene. ormai si dice, io sento dire per radio da esperti, la Roma mi dice che, la Roma chi? la Roma chi? La Roma è tante persone, la Roma fa sapere che, la Roma mi dice che, la Roma dice questo e loro sembrano i portavoci della Roma, la società fa sapere questo e loro fanno i portavoci della Roma. La Roma ti paga la Roma o ti paga, che so, il Corredo Sport, il Messaggero, Repubblica, Corredo Sera, chi ti paga? Cioè, capito il discorso qual è? Però devo portare la pagnotta a casa. E viva la libertà di stampa, viva la libertà di Roma a giallo rossa che non sta dalla parte di nessuno, sta dalla parte della verità sempre e sta dalla parte di chi vuole scoprire la verità, di chi vuole... da chi si va a scavare la verità tramite magari altre fonti, tramite degli amici, tramite delle persone amiche, tramite delle persone che stanno all'interno del mondo del calcio e noi veniamo a sapere delle cose che magari altri vengono a sapere mesi e mesi dopo, perché la Roma li fa uscire mesi e mesi dopo. solamente questo è una riflessione a voce alta che voglio fare e che, ripeto, in altri tempi la curva come il tifo organizzato avrebbe fatto il caos più totale ma non per i risultati, per tante altre cose che succedono e che vengono sottaciute e oggi è tutto normale, vengono anche giustificati, vengono anche protetti e mi viene da dire che i tifosi a razza hanno più palle di noi, di noi tifosi romanisti, hanno più palle di noi o quantomeno sono più coerenti di noi, perché poi la coerenza ha un valore fondamentale nella vita, se sei coerente con te stesso sei coerente anche nella vita e con gli altri e se sei un volta bandiera, un volta gabbana lo sarai anche nella vita privata, nella vita lavorativa eccetera, quindi porterai le spalle a chiunque, quando non ti servirà più nessuno lo butti via come uno straccio orecchio e quindi i tifosi razziali sono più coerenti di noi e lo vediamo tutti i giorni nella questione Sarri, nella questione della squadra, lo vediamo, lo vediamo, mi dispiace questo perché prima la tifoseria era un altro tipo di tifoseria, ora è un altro, è un prototipo di tifoseria, non è una tifoseria, è un prototipo, quindi ne prendiamo atto, noi ne prendiamo atto, non mi ci rivedo più, non mi ci rivedo più, è una cosa a me personale, è una cosa a me personale, non mi ci rivedo più in questo tipo di tifoseria, tutto qua, tutto qua, non mi ci rivedo più, non mi ci rivedo più nel difendere alcuni personaggi, nel difendere alcune situazioni, nel mettere a tracerare altre e non mi ci rivedo più, perché tanto i giornalisti sono tutti brutti e cattivi, o almeno quello che fanno un certo tipo di informazione, e invece quelli che fanno i ventriloqui della società, no, e allora permettetemi di dire che non mi sta bene.